Un casale immerso nel verde a Ponte Mazzoli, minuscola frazione di Camaiore. È qui, dopo aver viaggiato tra Londra e New York, che l'attore e regista Luca Calvani ha trovato la quadratura del cerchio, in un luogo dove esprimere le sue passioni, la cucina, l'interior design, le fragranze, la creatività. Una casa di campagna trasformata in parte anche in un cottage all'inglese, un luogo di ospitalità per i viaggiatori, al quale ha dato vita insieme al socio Alessandro Franchini. Proprio a Ponte Mazzoli, Calvani produrrà anche il Ginepro, ingrediente principe per il suo gin toscano. Così la nostra chiacchierata inizia da qui, vicino ad un camino e da quattro bassotti. Luca, abbiamo sempre parlato di cinema, di moda. Oggi parliamo di cani, direi. Oggi parliamo di cani. Mi manca addirittura uno, le braccia sono quelle che sono. Benvenuta innanzitutto, questo è un po' il mio buon ritiro. Quindi insomma, sono contento di ospitarti qui, Simona. E soprattutto sei in un luogo veramente quasi sconosciuto, tra virgolette, no? Della Versilia, a Ponte Mazzoli, sopra Camaiore. Sconosciuto anche a me, dite la verità. Perché quando, cioè, passando, ovviamente essendo pratese, ho passato tutte le stati della mia vita in Versilia. E quando ho scoperto questa parte qua, un po' anche da ragazzo, però non ero consapevole di quante strutture, di quante possibilità ci sono dalle camminate che si possono fare sulla Puane, alle passeggiate nei boschi. E poi la cultura camaiorese, che insomma è un piccolo paese con tante tradizioni e tante anche sfaccettature, i rioni sono molto diversi tra loro. Quindi è una realtà molto piccola, ma è anche un crocevia, ci passano tante persone da Camaiore. Tu c'eri trovata anche un po' del mondo che hai vissuto anche all'estero, hai vissuto tanto all'estero, fra Londra. C'è sempre stato un grande love affair tra gli americani e gli inglesi, con la Toscana. Dai tempi si vede film come Teco Mussolini e io stando in America per tanti anni, forse ho avuto quella fortuna di imparare a vedere il nostro paese con gli occhi degli stranieri. Perché noi molto spesso siamo molto denigratori nei confronti di noi stessi, ci sottovalutiamo sempre. Invece con piccole accortezze il nostro modo di vivere, il nostro lifestyle è veramente il migliore al mondo. Dal cibo al paesaggio del nostro paese e soprattutto della nostra Toscana. Penso che siamo qui oggi a Camaiore e vediamo fuori dalla finestra il Matanna e il Prana e sono innevati e a un quarto d'ora siamo a fare il bagno al mare. Insomma, è incredibile quanti ecosistemi racchiude la nostra regione. Ecco, ma tu sei riuscito magari in questo luogo a mettere insieme tutte le anime che ti rappresentano? Perché non sei un personaggio semplice, sei un personaggio complesso, eclettico. Quando con Alessandra abbiamo trovato questo posto ho pensato che fosse veramente il contenitore perfetto per poterci fare tante cose. Quando ho scritto il mio film, il Caccio alle pere, parla di un attore che molla tutto alla fine e compra un casale, insomma si trasferisce in campagna e quindi forse, e il film l'ho scritto otto anni fa, quindi molto prima, e quindi forse era un desiderio mio che aveva solo bisogno di uscire fuori dallo scoperto. Certamente qui mi dà la possibilità di cucinare, che è una cosa che ho sempre fatto e che mi è sempre piaciuto. E' sempre stato un mio modo di raccontarmi alle persone. Quando arrivo in un posto che non conosco vado in cucina e cucino per loro. Di solito è il modo migliore per rompere il ghiaccio per me. L'ho fatto per tanti anni in America perché ovviamente essendo l'unico italiano in una compagnia di americani, inglesi, francesi, e poi appunto l'opportunità di raccontare attraverso le fragranze, che sono una passione mia da sempre, la passione per l'intero design e quindi cimentarmi in un tipo di arredo che avesse, che strizzasse un po' l'occhio al modo dei country in inglese che ho frequentato. La scenografia è una cosa che mi interessa tanto quando lavoro su un film oltre ai costumi, ma penso che aiutino tanto a avvolgere, avvolgono la storia e quindi danno il background, danno lo sfondo. Questo è un luogo che immagino ti aiuti anche a creare nella tua fase creativa. Una delle ultime tue creazioni è un gin, un gin toscano. Quindi adesso c'è anche questa vena legata un po' alla distilleria. Il gin nasce da una curiosità mia, perché lavorando nelle fragranze volevo raccontare questo posto con un profumo. E poi stando in Inghilterra, avendo a che fare con Guy Ritchie, con cui ho lavorato, che faceva la birra e veniva sempre a trovarci David Beckham, che faceva i whisky, parlando mi dissero appunto che il ginepro viene tutta la Toscana. E io rimasi basito di questa cosa, ti parlo del 2015. E effettivamente scoprì che il ginepro di maggiore qualità viene proprio da Pontassieve. È un mondo meraviglioso quello del gin. È proprio l'elicriso, che è questa pianta che si chiama elicrisum metallicum, quindi una pianta che c'è in tutta Italia. Però pensa, Simona, l'elicriso in Toscana è proprio, a questa latitudine del Mediterraneo, l'elicriso sta sia in vetta agli appennini che sulle dune del mare. Infatti ha un profumo l'elicriso, che molti non lo conoscono, però non conoscono la pianta, il nome. Però nel momento in cui l'annusi sa proprio di questa giornata al mare, e mi viene in mente una passeggiata già nutri, sotto il sole. Quando il sole picchia su questo, è un arbusto, con questi fiorini gialli, fa questo profumo aromatico che addirittura, gli inglesi dicono che somiglia al curry, infatti lo chiamano curry plant, però gli francesi lo chiamano immortelle, immortale. E questa cosa ha proprietà benefiche, viene stato usato dagli alchimisti da tanti anni, nell'antica Grecia veniva usato per rendire il dolore, e quindi aveva questo effetto calmante, e quindi ho proprio pensato che fosse bingo. Per l'appunto noi poi qui ne abbiamo piantato tanto, useremo sempre di più il nostro, abbiamo un progetto di piantare due piane di elicriso, in modo che oltre ad essere il gin completamente organico e toscano, perché l'acqua è di pracchia di Pistoia, pensa, l'acqua è di pracchia. Il ginepo di Pontassieve, l'elicriso è della Puane, e quindi è una cosa tutta toscana, e mi sembra un bellissimo modo, infatti, il Lovely Tuscan Gin, perché ha un gusto molto morbido, il profumo dell'elicriso arrotonda tanto la punta aspera del ginepro, e quindi diventa molto bevibile senza essere, diciamo, un gin ruffiano, come si aprono adesso questi gin, tutti hanno 22 botani, che sembra restappare una bottiglia di profumo, che sono fantastiche, sono ottimi. Volevo fare una cosa un po' più ruspante, un po' più selvaggia, un po' come questa terra, insomma, che non è il Chianti, che tutto sembra fatto passato a pettine, insomma, è una bellissima terra, ma c'è anche una bella ruspante. Le evoluzioni legate al tuo gin, perché si può gustare così, però c'è una collaborazione... Ci sono delle cose che stiamo valutando, adesso non voglio ancora questa cosa, c'è una cosa di bolle in pentola, molto interessante, con Deborah e Eginio Massari stiamo lavorando a delle praline, fatte appunto da Eginio Massari, del nostro gin, quindi dentro la ganache, con il nostro gin Alilicriso, sono molto buone, e stiamo strutturando un po' tutto, fare il labeling, insomma, come fare questo co-branding con lui, quindi sono molto contento. Sei un ottimista, sei un eclettico, sei una persona che comunque si vede che ha fame di vita, no? E soprattutto una persona in continua evoluzione. Ecco, partendo da questo, cosa ti vedi davanti adesso? In un momento può rappresentare anche ripartenza, no? Vorrei che questo posto diventasse sempre di più accogliente, potesse accogliere più persone e creare più esperienze, e poterne fare più io, e ovviamente la continuare a creare in questo mondo qua, e nel mondo dell'esperienza, che sia fragranza, che sia bene, che sia il mangiare, continuo a cucinare, sto per tornare a cucinare anche adesso, c'ho una cena stasera che devo preparare, quindi sono a... quello è il tempo che non mi accorgo neanche che passa. Io in cucina, per esempio, l'ho sopperto tardi, forse se fossi tornato indietro e visto la parabola che stanno facendo, gli chef, hai voluto far quello. io la verità, forse mi sarebbe piaciuto più fare lo chef che l'attore, certo, potrebbe essere bravo, insomma, non è che... E magari lo chef in tv? Ma è lo chef, appunto c'è questa possibilità, per un piaciore da 3 euro come me, cucinare, fare anche da mangiare, insomma, per in tv magari potrebbe essere una strada. Lancio un ultimo sguardo al bosco dove crescerà il Ginepro di Luca, un casale e un mondo che ci gira intorno, pezzi d'Inghilterra, di America, tanta Versilia, le Apuani e quella Toscana, oggi è per sempre crocevia del mondo. Grazie a tutti.